Il gruppo è normalmente composto da 11 ragazze, io ho il piacere di dire che questo gruppo al completo è arrivato secondo ai campionati italiani a Rimini, erano 26 gruppi iscritti da tutta Italia e quest'anno anche per noi è arrivata la soddisfazione del secondo posto. Bene ragazze, per voi, musica! 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 Per voi, musica!